se ne vuoi mettere una mano e non lo vanno a parlare e non lo vanno a parlare tu non lo vanno a parlare oggi non lo vanno a parlare non lo vanno a parlare in una settimana mi avete chiesto di parlare e ci si chiudono la settimana passata è ci si chiudono io ci ho finito di parlare, non mi avrei fatto ci ho cominciato a parlare ho pensato che quando ci parlavi è meglio che quando parlavi tu fanno capito che noi adesso non ci mi dice niente perchè ancora non ti ha partito appunti, si cambia di si capito non è detto che l'ha tornato in giù non lo vanno a parlare ora ci ho parlato martedì se la partita c'è ancora la possibilità questo mercoledì sono andato e poi non lo vanno a partire tutto quanto ora vanno a parlare perchè se non la finita significa che ce la vanno a fare ma non lo vanno a fare facci capito ma ci capito? questo è un problema con il presidente 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 allora non ci puoi dire ma noi ci facciamo con la società di voi non c'è da dire nulla ma mi ti può piacere mi ti stai sentito presidente noi vi sentiamo e stiamo con voi ma quello che ha fatto sia Tarella in campo oggi deve essere pulito perchè zitto non lo deve dire a nessuno voi mi ti ha fatto una cortesia ma in questo momento ci ha ammazzazzito noi eh eh presidente ma lui è un professorista e viene pagato prende immagini quelle immagini discredono discredono ben avendo e discredono ben avendo ma questo è un tanto meglio 25 decine voglio riuscire a fare perché non mi ti può piacere mi ti fa come c'è sì presidente ma questo è un'altra cosa è prima ancora un'ospedale questo è un'altra cosa è un'altra cosa non mi ha chiesto un tuo campo però non mi ti fa come c'è 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 io posso parlare quindi mi ti fa come c'è io ho detto che voi adesso gentilmente voi andate a casa non mi fa come c'è non mi fa come c'è 50 km la differenza di tutto quanto non mi fa come c'è e poi sono venuta qua però io sto qua per mezzo a vostro lui è stato qua per mezzo a mio poi c'era mezza ma Presidente non mi fa come c'è mezzo a voi perchè lui con lui siamo sempre stati la città lui con lui siamo sempre stati nel suo teniente portate la macchetta allo strunguolo sono sempre loro che non sanno portare la macchetta nostra noi stiamo in venendo lui vuole essere rispattato la macchetta deve essere rispattata Presidente grazie